Ciao a tutti ragazzi, allora video veloce, poi ci sentiremo dopo post partita di Inter Cremonese sto andando a lavoro quindi appena ho un minuto di pausa riesco a fare il video se riuscirò a vedere parte della partita anche quella in pausa insomma vedremo comunque sicuramente il video post partita in un modo o nell'altro arriverà però adesso voglio parlare velocemente della bomba lanciata da Sky ma mi sembra riportato un po' da tutti bomba di mercato di un giocatore in uscita dall'Inter ovvero Robin Gosens pare che ci siano dei contatti abbastanza avviati per l'accessione di Robin Gosens al Bayern Leverkusen per una cifra vicina ai 30 milioni suddivisa con un prestito oneroso e un obbligo di riscatto a 28 milioni ricordiamo che l'Inter ha pagato intorno ai 23-25 milioni Robin Gosens ora da capire secondo me se il ragazzo vuole andare l'Inter secondo me lo vende e lo vende perché insomma si è capito che Inzaghi non ci crede più di tanto lui nelle partite che ha fatto non si è ancora dimostrato il Gosens dell'Atalanta però secondo me i fattori sono due il primo che secondo me Inzaghi non ci crede più di tanto e quindi lui probabilmente lo venderebbe insomma per lui non sarebbe una grossa perdita e secondo la questione di bilancio ragazzi lo sappiamo l'Inter incasserebbe un ulteriore di 30 milioni quindi raggiungerebbe anzi supererebbe il più 60 che deve fare entro giugno prossimo e di conseguenza insomma da quel punto di vista l'Inter sarebbe a posto ora bisogna capire se l'Inter lo vende e sul mercato va a prendere un sostituto oppure l'Inter pensa di essere a posto perché non dimentichiamoci che l'Inter per quanto riguarda gli esterni ha Di Marco, Danfries, Bellanova e Darmian quindi potrebbe essere che l'Inter decida di mettere a sinistra il titolare fisso Di Marco con alternativo Darmian che può giocare anche a sinistra anche se non è proprio il suo ruolo e a destra giocare con Danfries e Bellanova perché ricordiamo che l'Inter comunque per Bellanova ha tirato fuori 8 milioni per cui è un giocatore su cui in un modo o nell'altro bisogna puntarci quindi bisogna capire se l'Inter poi con quei soldi che incasserà andrà a prendere il centrale ora mi auguro che non sia a Cerbi perché se io devo liberare uno slot diciamo così salariale abbassare diciamo togliermi uno stipendio abbastanza importante di Gosens per poi andare a prendere un giocatore che ad oggi non andrebbe minimamente a rinforzare la rosa come a Cerbi capite che dal punto di vista puramente di come posso dire di forza di giocatori di qualità di giocatori e l'Inter prenderebbe comunque un titolare da nazionale tedesca per andare a prendere un giocatore diciamo a fine carriera anche se i ruoli sono totalmente diversi non voglio paragonare i ruoli sto paragonando la qualità del giocatore quindi bisogna capire se l'Inter decide poi di andare a prendere o un altro esterno sinistro non si sa chi o di andare a prendere un difensore a Cerbi fino a ieri sembrava saltato ora vedremo a Canji leggevo che ahimè sta andando al City che sgancerà 18 milioni di euro nonostante il ragazzo vada a scadenza l'anno prossimo e ci sarebbe Cialobà ma il Cessi pare l'abbia tolto dal mercato quindi bisogna capire se davanti a un'offerta se l'Inter mai la farà di un prestito oneroso con un potenziale diritto di riscatto o magari negli ultimi giorni di mercato la trattativa si riapre vedremo sta di fatto che insomma la trattativa Gosens arriva come un fulmio da Cessi ripeto se il giocatore sceglie di andare secondo me potrebbe anche farlo perché c'è di mezzo il mondiale lui vuole giocare e qui secondo me il posto da titolare non ce l'ha se Di Marco sta bene secondo me Zaghi fa giocare Di Marco quindi potrebbe anche essere che il ragazzo decide di andare se lui decide l'Inter secondo me lo vende senza neanche pensarci su visto che l'Inter comunque incasserebbe farebbe anche una piccola plus valenza detto questo ragazzi vedremo cosa succederà noi ci rivediamo dopo Inter cremonese non voglio dire niente non voglio pensare a nessun altro risultato che non sia nei tre punti speriamo che arrivino perché bisogna assolutamente prepararci per il derby per il momento vi saluto e ci rivediamo più tardi dopo Inter cremonese a dopo e sempre forza 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 Inter Grazie a tutti Grazie a tutti.